E quanti soldi sono stati pagati perché stanno fatti in fretta e fulgine? Non parliamo dell'abusivismo, amici miei, perché l'abusivismo significa abusare di una legge che non c'è, cioè una legge che ci dovrebbe essere ma che purtroppo non c'è. Quanti sacrifici che hanno fatto fanno a Casarella? Quanti soldi che hanno speso? Ma a un certo punto sono fatti a Casarella, quanta tasse ci stanno dando addosso? E noi pensiamo sempre a questo. E allora se un giorno questa gente bestemmia, se questa gente si ribella, se questa gente si allontana da Dio, ha colpe chi è? Vedete qua ha detto i capi, i capi sono quelli che si sono allontanati, che hanno fatto ingiustizie. E allora diciamo a tutti i capi, a tutti i livelli, anche a noi sacerdoti, per quanto ci compete, ritorniamo a Dio. E anche noi quando parliamo, quando sollecitiamo, invitiamo la gente a ritornare a Dio, perché solo Dio è giusto, solo Dio può darci una mano a fare del bene. E sarebbe bello se ognuno, invece di imitare quelli che fanno il male, imitassero quelli che fanno il bene, invece di imitare quelli che seguono gli idoli falsi, le divinità false, cioè la falsa illusione della vita, cerchiamo quelle persone che veramente si accostano a Dio. e non disprezziamo, non so come a chi le vanno andando a Chiesa, ma tu, come si, ne provo a dire a un certo punto, sei migliore o sei peggiore degli altri? E allora perché vai a criticare gli altri? A me ne chi le ce va? Nell'uscire fuori sbaglio, sapresti la coscienza dove, ma tu che non parchi neppure quella soglia, qual è il tuo Dio? Come fai a dirci io credo in Dio? Qual è la tua religione? I suoi cristiani, ma se questa religione non la frequenta mai, come fai a dirci che tu sei un cristiano? Il cristiano è quando noi andiamo a ripeterci ciò che abbiamo detto la volta scorsa, e i comandamenti, che Dio allora perché è andato con i comandamenti? Prima non esisteva la legge, è soltanto la legge del cuore, che diceva fai il bene e devi del male, questo è stato scritto nel cuore dell'uomo e Dio questo l'aveva chiesto al popolo, però quando ha visto la cattiveria degli uomini, quando ha visto il moltiplicarsi del male, a quel punto ti ha detto fermati, basta, che stia la legge, sia voi, domani non potrai dire, io non la conoscevo, dai meccannanza a lui, e questa legge è una legge di vita o di morte, se tu scegli la vita metterla in pratica, se tu scegli la morte eterna, noi non la osservavamo, era la legge che poteva sembrare un Dio che ti schiacciava sotto il suo potere, mentre Gesù ci ha fatto vedere un Dio diverso, Padre nostro, la fraternità di Dio, quest'amore di Dio verso gli uomini, e a quel punto Gesù non ha detto più, primo, secondo, terzo, quarto e decimo comandamento, che soltanto amerai il Signore Dio tuo, e amerai il prossimo tuo come te stesso, cioè ci ha posto di fronte a una famiglia, nella quale abbiamo un padre, che governa questa famiglia, che dà il pane quotidiano alla famiglia, che libra il male, dal male ai figli suoi, eccetera, e allo stesso tempo come famiglia, rimetti a noi, cioè cominciamo a formare questa famiglia intorno a Dio, ci riconosciamo tutti come figli di Dio, oggi purtroppo, non sono tutti figli dentro oggi, ma come figli di Dio, mi pare che se non stanno pochi, era prima lui, ecco allora, questo popolo, in Israele, si è allontanato da Dio, ha seguito le false divinità, a quel punto Dio ha detto, basta, io non ti aiuto più, puoi fare la capa tu, fai quello che vuoi tu, fatti la divina, io sto qua, quando mi vuoi, sai dove trovarmi, quando sei arrivato nella miseria estrema, dell'anima e del corpo, sai dove io sono, e sai anche come mi devi pregare, e a quel punto, io sono sempre il padre di misericordia, e ti darò aiuto, la stessa cosa ancora oggi cari amici, noi pare che siamo indipendenti da Dio, non abbiamo bisogno di Lui, e vediamo e assistiamo ad un mondo, che peggiora sempre di più, peggiora sempre di più, e di fronte a questo mondo, che sta peggiorando sempre di più, non so se l'uomo sente il bisogno, di fermarsi un po', e dice, ma andò sta a me, ma qual è quel Dio che noi stiamo adorando, quale sono le dividenità della nostra vita, quali sono gli idoli della nostra esistenza, allora diremo, i giocatori, questi sono i nostri idoli, questo che l'altro ha sbagliato qua, sbagliato là, quando la settimana intera, si deve parlare soltanto dei palloni, io quando a pallone, quando a palla, che buttate a pallare cari amici, e non dalla vostra bocca, non esce mai una parola buona, condicendo, non bene, che andate a messa, ammaleggiate, che sto brano lo vangelo, domenica nella messa, abbiamo letto queste letture, questi sono i consigli che sono stati dati, questi cani dice nessuno, soltanto chi l'ha sbagliato, si dice, ma tutto maestro, tutti, ma tutto quanto allenatore, la squadra si fa così, la squadra si fa così, e la squadra della nostra vita, della tua famiglia, come stai governando, come stai facendo, come stai spostando le pedine dei vari giocatori della tua famiglia, e allora, questi sono un gruppo di idoli, passato l'altro, abbiamo visto Sanremo, quanta sta gente ha visto Sanremo, ah, che era bello, che era così, che era con lì, ecco, quella donna che si spoglia, quelle le diventa l'idolo delle persone, l'idolo delle persone, amici miei, quella donna, per quel gesto, chissà quanta peccata era ancora la coscienza, per tutta quella gente, che guardando, è rimasta scandalizzata, per quante persone, l'hanno desiderata, per quante persone, hanno fatto il male, pensando a quel corpo, che doveva essere una bellezza, e che purtroppo un domani, Dio non voglia, ma se andasse a finire all'inferno, per quel gesto, pensate, che fine farebbe quel corpo? Nella vita, di un santo, passionista, si racconta, questo, che egli era il paggio della regina Isabella di Castiglia, sta donna descritta per la sua bellezza, lui era il paggio, cioè una specie di cameriere, chiamiamola così, quando questa regina è morta, dopo fatta le esegue, è stata trasferita in un paese, dove c'era il cimitero reale, e lui fu scelto insieme a qualche un altro per accompagnare questa bara là, arrivati al cimitero, c'era la consuetudine di aprire la bara, perché il campo santiero, cioè quello che era detto al cimitero, doveva constatare se effettivamente era quella la persona che stava dentro, oppure c'era un'altra persona, o addirittura non ci stiamo in nessuna, questo tempo si può supporre tutto il corso, quando aprirono quella bara, e lui vide quel volto che prima aveva incantato la gente, incantato i capi delle altre nazioni che venivano a vederla appositamente, l'apprezzavano e la sua bellezza, e vide quel volto tu mi hai fatto, disse questa è la bellezza, e allora lui lasciò e se ne andò in convento ed è divenuto un santo, il nome purtroppo mi spugge sempre, però è reale quello che sto dicendo, allora questa è la bellezza di un corpo che si spoglia, questi sono gli idoli delle genti, amici miei, non sappiamo sta gente umana quando soffrirà per questi gesti, e allora vedete, il Signore in questa lettura, si dice questa, a gente, questo è quello che ha fatto, si è lasciato minare delle passioni, e ha elevato alla dignità di Dio, soltanto queste cose materiali della vita, a mangiare, erenare, le porcherie, queste che le alzano, a un certo punto questo Tempio non ha avuto per loro nessun più valore, come tante le nostre chiese che stanno rimanendo sempre più vuote, ma non per colpa nostra, perché anche se sbagliassimo noi sacerdoti, la chiesa è vostra, voi siete i fedeli, siete voi che siete stati battezzati, voi siete stati resimati, voi siete sposati nelle chiese, quindi la chiesa è vostra e se ci vai, ci vai là, perché sai che c'è un Cristo che ti aspetta nella santa Eucaristia e non può essere diversamente, e allora quando queste chiese si stanno abbandonando, amici miei, noi speriamo tempi migliori, ecco allora che è successo, a Gerusalemme sono venuti i nemici e hanno incentiato quel Tempio, hanno distrutto tutto, e soltanto poi attraverso questo re pagano Ciro il Signore fa riordinare un'altra volta queste file dello spirito e della gente dice andate, ritornate a Gerusalemme se voi appartenete là, che il vostro Dio mi ha detto di lasciarvi liberi, andate, ricostruite il Tempio, rimettete a posto il Tempio e sappiate che in quel Tempio c'è la presenza di un Dio, di quel Dio che vi ama, di quel Dio che vi perdona e la gente è ritornata pensando a ciò che aveva abbandonato e ci ha sofferto nel vedere il Tempio sconvolto, gli altari profanati, la legge che non si trovava più e poi è stata riscoperta e la gente quando ha riletto quella legge ha pianto amaramente, perché è successo questo? Perché questa legge di Dio noi non l'abbiamo osservata. Ed è bella anche la frase di questo pagano che dice a tutti quanti chiunque di voi appartenga al suo popolo il Signore suo Dio sia con lui. Vedete? Bello sentire questa presenza di Dio per ricostruire il mondo. Cioè cari amici il Signore sia con voi ogni volta che fate il bene, ogni volta che dà la voglia di fare del bene, ogni volta che dà l'entusiasmo di operare il bene, il Signore sia con voi, sia Lui che vi ispire come fare, sia Lui che vi dia questa cordialità di operare, sia Lui che vi dia la ricchezza dei sentimenti e l'entusiasmo fa sempre cose belle, non vi sentite soli perché quando fate del bene c'è sempre Dio con voi, non fate del male però eh, perché sarà il diavolo con voi e il diavolo non vi è avuto mai a fare del bene. Il Salmo è il 136 lungo i fiumi di Babilonia la sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion ai salici di quella terra appendemmo le nostre cedere perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci hanno deportato allegre canzoni i nostri oppersori cantateci i canti di Sion come cantare i canti del Signore in terra straniera se dimentico di te Gerusalemme si dimentichi di me la mia destra se attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia quanta amarezza cari amici ci sono in queste parole i fiumi di Babilonia il Tigre le Ofrate questo popolo ebraico che è stato deportato schiavo in queste zone quante volte si sono ritrovati insieme lungo le rive del fiume e lì i nemici che stavano addosso a loro e ne schiacciavano sotto il potere delle loro mani dicono cantateci canti alla volta fateci sentire la canzone vostra è chiaro come potremmo cantare se dentro di noi c'è l'amarezza dell'esilio se noi siamo lontani dalle nostre terre come potremmo cantare cari amici abbiamo bisogno della nostra terra che ci ispira abbiamo bisogno della pace della nostra terra abbiamo bisogno del nostro tempio per poter arrivare i canti a Dio ma quasi soltanto l'amarezza è la tristezza cari amici è bello cantare è bello perché il canto ti fa buttare fuori tutta l'amarezza tutta la tristezza che c'è dentro di te però è bello cantare anche al Signore e levare a Dio i tuoi canti perché il canto è poesia e poesia e canto è l'espressione più bella del cuore e della mente ma quando dentro di te c'è l'amarezza c'è la tristezza ma tu che puoi cantare ecco allora anche oggi noi non siamo più capaci di cantare a picciammare la televisione e prima dei cassetti prima che dai dici dal cd e via discorrendo ma la gente oggi non canta più era bello quando una volta stavano le finestre aperte e c'erano quelle donne mentre facevano le pulizie in casa di essere belle cantare allegramente soprattutto quando che la bella giornata di primavera era tutta una cosa gli operai nelle campagne tra parte e l'altra insieme cantavano tante belle canzoni così si confortavano e si aiutavano a trascorrere una bella giornata ma oggi chi canta più adesso stieni più oggi soltanto era il muro di dramma adesso c'è a sinistra è chiaro il muro di macchine però se tu canti chi li guarda in faccia ma chi li è pazzo ma che sta cantando allora cari amici pensate che questa possiamo dire è come la tristezza di un popolo che è divenuto straniero nella sua terra che è divenuto schiavo come gli ebrei erano schiavi sulle rive del Mesopotamus del Tigre e delle Ufrate questo popolo è schiavo delle sue passioni e non ha più nel cuore la gioia di cantare perché Dio non c'è più dentro di loro non c'è più non c'è più